Abbiamo qui con noi un premiato della quinta convention di Prestito C di oggi qui a Napoli, Ettore Milanese. Milanese ma siciliano. Ettore infatti ha una propria agency Prestito C a Sciacca, ma da qualche mese guida anche la filiale diretta di Prestito C a Palermo. Quindi una doppia responsabilità. Ma in un mercato così competitivo come quello della Sicilia, soprattutto nell'ambito dell'accessione del Quinto, che tipo di valore aggiunto voi avete come Prestito C? Come sfidate voi la concorrenza? Sicuramente il rapporto umano. Il rapporto umano che si viene a creare con i clienti e con gli stessi colleghi. Poi comunque la società, devo ringraziare sicuramente Vincenzo Barba perché ci sta mettendo nelle migliori condizioni per lavorare. Infatti tramite la loro campagna di lead tutti i giorni abbiamo dei nominativi caldi da poter contattare. Fare delle consulenze sempre più professionali e sempre più a persone che sono realmente interessate ai nostri prodotti. Adesso con questo nuovo incarico della direzione della filiale di Palermo abbiamo acquisito anche nuovi prodotti e quindi siamo competitivi a 360 gradi con tutti i prodotti sia della cessione del Quinto che del Prestito Personale con queste nuove convenzioni che sono state stipulate anche per quanto riguarda il rental, la sicura sì, di cui sono diventato da poco anche area manager e sicuramente dei mutui con che banca e adesso con il nuovo partner BNL. Grazie.